Andiamo avanti con un gruppo che ha un nome un po' particolare, mi hanno spiegato insomma da dove viene però magari di più tardi ve lo spiegano loro, si chiama V.A. Funk All è una bandarese che nasce da una passione comune per il funk, il cool, forse per questo il nome, il soul e il jazz I musicisti sono tutti l'impronta jazzista, hanno raccolto negli anni prestigiose collaborazioni sanitarie anche all'estero fra cui annumeriamo Geget L'Esforo, Niki Nicolai, Simona Bencini, Fausto Leali e tanti altri ancora Il progetto nasce da un'idea del cantante Elio Arcieri appassionato di scat, l'arte dell'improvvisare con la voce E che voce! Questa sera interpretano un brano storico di Stevie Wonder Signore e signori, V.A. Funk Cool con Isn't She Lovely? Giordanoì Simona Bencini, Signore sarà un'idea dell'amore Sì, davvero legato della donnerERT Sì, davvero, le persone che vi pissi Grazie. Is it she love? Is it she white? Is it she precious? Is she white? Is it she tukeyed to me at all? Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti